Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video commentiamo quello che è il sorteggio della Juventus per quanto riguarda Roma-Napoli-Inter sta finendo adesso appunto il sorteggio ne parlerò magari con un post perché non è di mio grande interesse per il momento parliamo del girone della Juventus che è un girone un po' strano perché vi dirò perché un girone che inizia con noi in prima fascia in seconda fascia il Manchester United quindi un inglese in terza fascia troveremo il Valencia e la Spagnola e infine una Svizzera in quarta fascia che è lo Young Boys intanto vado a farmi notare quella che è la comunanza di nomi cioè Juventus vuol dire gioventù sostanzialmente e Young Boys vuol dire ragazzi giovani quindi sarà uno scontro tra giovani sperando che poi la gioventù vinca sui ragazzi giovani all'interno di quello un girone che ci è andata bene sostanzialmente per il tipo di scelte cioè degli inglesi dove evitare una è il Liverpool e alla fine evitate ha preso lo United che ok grandissima squadra per la storia che ha però non mi convince mai troppo lo United né in campo europeo né in campo nazionale soprattutto con Mourinho che è sicuramente un attore che sa il fatto suo ma è in una fase abbastanza calante dopo quando ha allenato appunto l'ultima volta l'Inter poi l'ha allenato un po' la volta un po' la volta su fase calante nonostante abbia fatto delle belle annate comunque discrete ciò non vuol dire che bisogna sottolottare il United per questo motivo perché comunque il United è un attore appunto Mourinho che tra l'altro gioca molto l'italiana col catenazzo contro piedi diciamo così cosa che può far male perché talvolta squadre molto simili per filosofia di gioco diciamo che Mourinho è un po' difensivista cosa che a Ligri non lo è è un po' diversa la cosa resta il fatto che comunque sono due squadre simili per questo motivo qua e quindi potrebbero essere partite molto difficili ricorda molto quella partita qualche anno fa nel girone contro l'Atletico di Madrid appunto per questo motivo qua squadre troppo simili talvolta trovano più difficoltà che tra squadre diverse quindi questo è un modo per dire che non bisogna in nessun modo sottolottare lo United solo per antipatie verso Mourinho piuttosto che Mourinho non è più di una volta o quello che è però diciamo che comunque c'è andata la cosa meno peggio è proprio questa il Valencia è una squadra una buona squadra ha fatto un buon campionato scorso anno però chiaramente gli spagnoli dopo che ha terminato battaglia a Barcellona e a Madrid il Valencia doveva essere abbordabile e resta tutto nella testa l'impegno dei giocatori che ci mettono e nell'ossidità di quello che avranno avanti di come gestire e toccare il pallone e infine Young Boys che è un po' la squadra che automaticamente automaticamente poi il calcio finché la paletona tutto può succedere ma il Young Boys è la squadra che poi come inizia la quarta finirà probabilmente anche la quarta sembra che non vada ad ostacolare qualche squadra tipo Valencia e quindi accedere al Rappalink però sono discorsi che porteremo più avanti il più che vivendo si debba sfruttare è quella che non è tanto il questione di fortuna o caso è di merito di aver vinto un campionato di essere arrivati in prima fascia e quindi in prima fascia tendenzialmente dà qualche vantaggio in più perché sì spessi solitamente le squadre più forti sono in prima fascia chiaramente però campionati come Spagnolo soprattutto l'italiano ovviamente no perché possono esserci squadre della stessa nazione ma sperano l'inglese hanno 3-4 squadre in classifica che sono molto forti cioè la Madrid e Barcellona e l'Atletico Madrid sono tre squadre talvolta il rischio di beccare in terza seconda fascia la squadra di questo calibro è sempre molto alto stessa cosa vale anche per l'Inghilterra perché City in prima fascia United in seconda Liverpool in seconda poi ci sono altre squadre non mi ricordo neanche più la classifica quindi però insomma è sempre molto alto il rischio di beccare le squadre molto forti appunto per questi motivi perché sono campionati molto competitivi per quanto riguarda i primi posti già se ne becchiamo potenzialmente una tedesca è già un po' meno perché il Borussia non è più quello di quando l'anno fa infatti oggi si parlava di Offenheim si parlava di Schalke insomma squadre così e da questo alla fine ci va anche bene ma ovviamente mai cala l'attenzione perché talvolta quando il gioco si fa facile che noi incorriamo in molte difficoltà perché è un discorso proprio di concentrazione di tenere la testa fissa sull'obiettivo e non perderci in quelli che sono pronostici e aspettative dovute a un livello differente siccome minore delle altre rispetto a noi sulla carta ma sulla carta il pallone è un'altra cosa quindi ragazzi dimmi qui sotto cosa ne pensate solo per quanto riguarda Juventus ne parliamo magari sulla pagina per Napoli Roma e Inter forza di loro come sempre e che vinca il migliore sperando che il migliori sia siamo noi appunto ciao